Si era intestato quasi 200 auto, tutte per conto di alcune famiglie Roma residenti in baraccopoli romani, che poi le utilizzavano per mettere a segno furti in tutta Italia. A portare alla luce il sistema Truffaldino e la conseguente confisca di 187 vetture sono stati i carabinieri. Le indagini erano partite nel maggio 2018, quando la vittima di un tentato furto a Poppi era riuscita a fornire alle forze dell'ordine modello e targa dell'auto con la quale due soggetti si erano dati alla fuga. I militari della stazione di Poppi, così seguendo questa traccia, sono arrivati sino a Roma. Dall'analisi degli elementi raccolti era infatti emerso che l'auto segnalata era intestata ad un cittadino egiziano 55enne irreperibile sul territorio italiano. Gli ulteriori accertamenti hanno poi permesso di scoprire che l'uomo era intestatario di ben 187 veicoli, molto probabilmente tutti utilizzati per compiere furti in abitazione. Il cittadino egiziano è poi risultato di fatto un mero prestanome a bordo delle auto. Nel corso dei controlli sono stati infatti trovati i soggetti di etnia Roma dediti a reati contro il patrimonio e con precedenti specifici per furti in abitazione. I malviventi, così presumibilmente anche grazie alla complicità di alcune agenzie di pratiche auto della capitale, intestavano fittiziamente le vetture al cittadino egiziano falsificando documenti e firme in modo che diventasse così difficile risalire a reali utilizzatori dei veicoli. Questa mattina i carabinieri, con un provvedimento emesso dalla Procura della Repubblica di Roma, hanno iniziato a dare eseguzione alla confisca di ben 187 vetture, ma saranno necessari alcuni giorni per portarlo a termine. Il cittadino egiziano infine è stato denunciato per falsità materiale e falso ideologico.